Ciao, benvenuto nel mio canale. Mi chiamo Valentina Petruzzella, sono un architetto. Voglio spiegarti in due parole di che cosa parlerò nei miei filmati. Nelle nostre città esistono moltissimi edifici di architettura contemporanea, magari progettati anche da architetti famosi. Spesso però non sono conosciute le scelte progettuali, la storia, i materiali utilizzati o addirittura lo stesso architetto progettista. Io ho deciso così di condividere e filmare le mie visite, proprio per aiutarti a scoprire e a conoscere meglio l'architettura contemporanea e lo farò attraverso dei filmati brevi e con un linguaggio chiaro ed essenziale. Puoi seguirmi iscrivendoti al canale YouTube Video Architettura Contemporanea o lasciando un mi piace alla pagina Facebook Video Architettura Contemporanea. Ciao!